Grazie. Era dell'esercito della difesa, quindi sono riuscito a provare tutto. Grazie. Taglio, e poi parliamo? Servizio. Tanti Gaetani ricordano ancora quei 13 momenti, sono stati scritti diversi libri sul dopoguerra Gaeta e oggi in particolare l'associazione Reggio Marina ha trovato tra l'altro un titolo bellissimo per questa mostra, io credo che sia vero, fecero tutti il loro dovere. Un dovere che non era un dovere civico, prima di tutto, lo era in senso umano, morale, quello di difendere la propria città, difendere la loro patria e per questo hanno dimostrato di essere tra i grandi, secondo me, della nostra nazione. Applausi. Applausi. Grazie. Un senso veramente di orgoglio perché ci dà ancora la possibilità di far conoscere la città, qui c'è la chiesa e il buono che chiesa che sa quanto io tramite Massimo costantemente chiedo più o meno e ci vengo anche a questa chiesa. Ringrazio il comandante Cretto, perché alla sua insaputa, come stante, you don't know, but you are helping us for this. Il mio impegno per questa Chiesa e per tutto quello che è la base, quindi i rapporti con la città, con le istituzioni, non mancheranno mai, anzi saranno ancora più forti di prima. Questo è perché alla Gaeta, come dicono tanti, chi arriva lascia il tuo, per il tuo show. Grazie. So this is the second year for myself, my XO and my Command Master Chief to be here, and we are very happy to continue this enduring relationship here with Gaeta and with our Italian Count. E' il secondo anno che il comandante è qui ed è molto felice che continua questa relazione tra il loro comando, la città, e anche il comandante della Marina Gaeta. I'm not sure that I can say it better than everyone has said to this point. So I cannot say it any better or... Ah, non potrebbe dire niente di meglio di quello che è stato già detto fino adesso. But these types of ceremonies and these recognitions are very important that we do them together. Sì, è il riconoscimento di quello che è più importante che abbiamo fatto insieme. Sì, sì. And not just between our militaries, but between the people. Non solo tra i militari, ma anche tra le persone. Questo è benissimo. Because we all have very much the same ideals. Sì, abbiamo gli stessi ideali. Of liberty and freedom and government for the people. And it's a very important bond between us. È la libertà tra le persone ed è questo molto importante, è un legame molto importante. So we are very happy to be here today and we thank you for continuing to include us in important ceremonies like this and we very much enjoy being here. Quindi è molto felice di essere qui, anche sarà presente nelle cerimonie come questa e in futuro perché appunto riconosce questa importanza. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.